la data della distribuzione delle soldi sono 1900 87 la pizzeria fra di pizzeria pizza o snota di fattura pizza o no pizzeria ma molti altri pensino che invece come si potrà capire cominciarono ad essere maledetti dal giorno in cui il killer uccise sui bambini e si concifera che il Von Geil sia stato ucciso ma nel 2006 molti altri invece pensino che non sia mai esistito e che questa voce si trova da tanti anni o tanti anni o millenni comunque nel 1800 no nel secondo no la pizzeria aprì nel 1977 bene ragazzi se avete commenti o teorie scrivetevi sotto i commenti questo è il mio migliore che non si può fare